Buenas chicos, il video termina bien, si te gusta un agradable gustos is a clearza? Mamma mia che pioggia che c'è fuori, meno male che sono arrivato al cinema Allora, devo muovermi perché credo che il film sia già iniziato Scusate, io vorrei dei popcorn, perché non c'è nessuno al lavoro? Ma cosa sta succedendo? È tutto decisamente troppo vuoto Vabbè, so già che la mia sala è questa, quindi entriamo Fede? Si sei? Fede? Oh, ciao Steph! Finalmente sei arrivato, vieni, muoviti, dai che il film è appena iniziato Muoviti, se no te lo perdi, dai, sediti Che film stai guardando? Film bellissimo, guarda, te lo consiglio Ci sono due attori che sono davvero formidabili Cioè io ho due attori così bravi, non li ho proprio mai visti Fede, siamo noi No, è un film fantastico, cioè scusami Come facciamo a essere noi se siamo in un cinema? Vuoi dire che i nostri video sono trasmessi al cinema allora? È il nostro ultimo video quello Hai perso davvero tempo a mettere il nostro ultimo video di Gmod Dentro un dannato cinema dentro Gmod? Sì Sei seria? E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, che si chiama Gmod? E stiamo qui con un nuovissimo episodio del Guess Questa volta, come avete già visto dal pre-intro, siamo in un bellissimo cinema Esattamente, questa mappa è davvero davvero spettacolare Non ci sono molti nascondigli, quindi per fare un Hide and Seek non sarebbe l'ideale Esatto Ma per fare un Guess U è perfetta perché è abbastanza piccolo ma non troppo ed è bellissimo esteticamente Ciao Fede, sono questo squalo verde, come stai? Mi stai imbrogliando, non è vero? No, sì, sono davvero io Fede Valevo dire che abbiamo anche cambiato qualche skin, cercate di riconoscerle durante il video e scrivetelo nei commenti Ma credo che sarà facile riconoscere Sì, sì, sì Dovinate anche cos'è scomparso, perché quello è già un po' più difficile Vabbè, ma qua stiamo facendo gli dovinelli stranissimi e difficilissimi Scusa Fede Allora, io ti ho lasciato 10 secondi Per gentilezza, adesso morirai Morirai Scusami Fede, dai No, non ti scuso Perdona, era uno scherzo simpatico Allora, non è nelle mani della tastiera, quindi sei fermo Ok O sei questo O questo vicino a me, no Sì, 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 no, certo, certo, certo A me sta scattando tanto, tanto, tanto A te sta scattando? No Da quando ho usato la mia arma segreta, mi hai iniziato a laggare Secondo me ti sei buggato il gioco No, da me va tutto normale Tutto come sempre Sì, sì, non ho niente di strano Dannazione, no vabbè Qua in alto sto un po' meglio Ah, quindi sei in alto Qua in basso sto benissimo Ti sei autouccisa? Sì Così poco sei durata? Sì Sappi che ero pure incastrato Quindi Ehi, quello incastrato, dai, ma allora mi sembravi finto Uffa Mi sono incastrato su un tizio Non mi troverai mai, questo è il nascondiglio della vita Perché mai ti sei nascosto se stiamo giocando a Gesù, spiegami Eh, vabbè, sì, perché volevo farti una cosa Quindi Allora, ho visto una skin, ok Ok Non ti posso dire quale E mi è venuta un'illuminazione incredibile Ho detto, no, lo devo fare Cioè, lo so che è brutto nascondersi nel Gesù, ma lo dovevo fare Ti do un indizio Non c'è bisogno, cara Non lo vuoi? No, me lo dai Allora arrangiati, quando perderai riderò tantissimo Non me lo dai tra due minuti se non me la sento Ok Ma secondo me tu sei mustaccio Esatto Ok Come cavolo hai fatto? E fin lì era ovvio E sai che mustaccio si può mimetizzare bene in tanti posti Quindi questo è un altro indizio Pensa a come fare se ne pop corn Sei ne pop corn Volevo fare il pop corn, ma no Ok, ok Perché ci stessi stata bene Ci sarebbe stato bellissimo Era perfetto Però qui ho visto questa mentre andavo dai pop corn Ho detto, no, è ancora meglio Ok Ok Finita lì Potresti essere anche in bagno Mi vedi? Ciao, Steph Che fai di bello? Continua a cercare le skin che non sono me, vero? Stavo controllando da due ore una cosa E secondo me è proprio così Vedete questo piccolo sassolino che si muove? Ecco Sono diventato invisibile, addio, non mi vedrai mai Pure Addio Dopo che ti nascondi in quel modo diventi anche invisibile Esatto Ma sei proprio Sono scappata e ho cambiato schermo Sì, certo Sei proprio scappata, Ferre Ma come mi vedevi? Sì Com'è possibile essere invisibile? Consolini Guardate questa cosa Ta Ta Fede Prova a trovarmi se ci riesci Allora sei in un bagno Non so perché mi sembra che sei in un bagno Sì, sì, vero Consolini? Sto a prendere Siamo proprio in un bagno Allora, ti do un indizio Non esisto più in questa mappa No, allora se non ci sei impossibile Allora, dentro un cestino Sì, esatto Bra, bra, come hai fatto a capirlo? Allora, le skin Quando cerchi di nascondere nella mappa Sì Ti buggano sempre Quindi qualche indizio lo devi per forza lasciare in giro Sì, è vero È vero Guarda Ci sono tanti indizi secondo me dove sono io È proprio Si vedono diversi punti in cui sbuco Sì, sì, sì Assolutamente sì, Ferre Hai proprio ragione Guarda, eh Concentrati Ciao, Ferre Ferre Cioè, nascondendoti tu finisci sotto il pavimento Sì Facciamo una cosa Voglio vedere Allora, stai fermo Fammi vedere di nuovo dove sei Ciao, Ferre Abbassati Ti sto prendendo? No Cioè, non ti posso neanche colpire No Niente Ciao, Ferre Niente No Cento di vita tondi Giochiamo la chiappa alla talpa Va bene Dai, vai, vai, vai Ciao, Ferre Un po' ti ho preso Ma un po' molto Mi hai tolto tre braccia Uffa E se tu Eh Eee Ti ho preso però Ah, porca No Che è successo? Perché mi ha cambiato skin? Perché? Perché sei diventato sto cosa? Ferre Dimmi Dove sei? A gironzolare A gironzolare Così mi risponde Come se fosse tutto ok No, questa volta te non mi sono nascosto Sto cercando di giocare un round in modo serio Quindi Ok Ok Esatto, esatto Ok Allora Secondo me Senza farlo neanche apposta Ti sei trasformata In una nuova skin che abbiamo aggiunto Quindi Ok Se devo dire In che skin Ti sei trasformata E sparo così proprio a caso Direi che sei Five Nights at Freddy Ok Ok E quindi poi quali Quali sono tra i tanti Five Nights at Freddy Mmm Quello No Guarda, secondo me è quello di fronte a te in questo momento Allora, quindi mi stai anche osservando Capisco, capisco, capisco Sei un po' sospetto tu, caro FBI Sei un po' sospetto Eh, sì Vediamo come ti comporti adesso, caro mio FBI Mmm Stai facendo finta di non essere Ferenichi Vero? Guarda come guarda soltanto da un lato Perché ha paura di incrociare lo sguardo Vero? Ammettilo adesso Feren, abbassati E non ti sparo Te lo giuro Se ti abbassi in questi istanti Io non sparo Feren Sei sicura di valere andare avanti? Sei proprio sicura? Va bene Sei ridicolo Eppure è scomparso però Sei la persona che ridica Vedi che era sospetto Mi sono appena ucciso Ho notato Va bene Ero l'Ess in Wonderland Sono stata sempre vicino a te Per quello vedevo quello che facevo Che cavolo ne sapevo Se andavo avanti e indietro Facevo proprio questo giro Poi quando hai fatto un sieditiro Sto tutta vicino a te Riguardati la registrazione Cosa dovevo saperne io? Tef Sì? Dove sei? Qua Allora Vediamo un pochettino Secondo me sei di nuovo nei bagni Ti piacciono così tanto i bagni Feren, a destra Cosa? Girati Feren, ci sono Non mi vedi? Allora smettila Mi stai intrippando E mi dà fastidio Allora 180 gradi E mi trovi Non so neanche quanti sono 180 gradi Metta a giro Molto semplicemente Non è vero Perché ho cambiato sala Quindi non è vero Fai 180 gradi E mi hai trovato Feren È proprio automatico Forza Feren Mancano solo 3 minuti Quanto evitai? 50 Eh Sei questo Steve seduto Probabile Probabile Cavolo Andiamo a farci un po' di Sky Realms Feren Sì Ok Poi si spara e se ne va Vabbè 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 Ciao Mi sono incastrato Non ci credo Dai Non è giusto Feren Feren Dai non è giusto Morto con il tuo stesso troll Sì Sì Per una volta le cose si rigirano a favore di Fereniki Allora Ok Dove eri tutto il tempo? Ero Cioè ero silente tutto il tempo Ok Mi penso che lì è Gandalf Dannazione Anche a me non so perché Non so Bene perché Ma è già la seconda volta Come quando ero un mustaccio Che mi cambia la skin senza permesso Buongiorno signorita Ci vuole un po' di popcorn? Certo Sì Grazie Ok A che gusto lo vuole? Peperoncinos? No Normali Non mi piacciono con i gusti strani Peperoncinos Ho detto Va bene Due porzioni di popcorn a peperoncinos Come bibitas Cosa vorreste? Muchos Va bene Acqua Grazie Tequila Tequila Fresca Con cosa hai fatto colazione stamattina? Forse anche tu con la tequila? No Perché non è molto normale sta cosa che stai facendo Vai in giro a mimetizzarti dai Io ho un sogno Dovrei saper parlare il messicano Sì ma non si parla aggiungendo le S alla fine di ogni parola Non è capito come si fa Posso dirti una frase nel messicano con Google Translate? Non lo dai il permesso a fare Non lo vuole sentire nessuno? Un attimo dai La cerco al volo La cerco al volo E te la dico Vai Poi ti nascondi E giochiamo seriamente Poi mi nasc... Promesso Perché i nostri video di G-Mod Promesso Non sono mai seri Porca miseria Cioè dovremmo fare dei gay su bellissimi E invece finiamo col fare stupidaggi di tutto il tempo Lezioni di messicano Buenas noches signorita Le gustate di avere una buona pellicola conmigo? E lo smustaccio è il re dello spistacos È stata una delle cose più imbarazzanti che tu abbia mai fatto Non sono partato per parlare messicano che poi in realtà è spagnolo Non è spagnolo, non è messicano Ovviamente Ovviamente è spagnolo Dimmi che non sono nato per parlare lo spagnolo Sì Dai Vero? Sì Allora facciamo la petizione con tanto di sondaggio Per fare two player No, per far imparare Allora Sì Volete che Steph impari lo spagnolo e dica ogni tanto una frase spagnola all'interno dei video? Votate no Mi pago Babel in spagnolo e inizio a imparare le frasi Esatto, esatto, esatto Vabbè, votate, votate, votate che io nel caso mi imparo tutte le frasi Guarda che il canale multilingua non l'ha mai fatto nessuno Buenas noches Non l'ha mai fatto nessuno, magari capito, rivoluzioniamo YouTube Finché non mi chiedete cinese e russo Va bene No, anche russo Russo no, russo no Bellissimo, russo Signore Sì Signore che fa? Perché sto sparando in un vetro? Ma perché ha scritto ciao nel vetro? Ho scritto ciao, scusi, non potevo? No, non si può Questo è danneggiamento di struttura pubblica Non so chi appartenga al cinema Però va bene, allora mi segua No, no, mi scusi No, la devo arrestare, venga Il Messico è lecito Ma lei non è messicano, venga qui Buenas noches No, non basta parlare spagnolo Venga, la devo arrestare Abbiamo delle celle apposite qui nel cinema Venga, venga Va bene, va bene Io la seguo giusto perché è delle FBI Venga, venga Qui dentro Quella è un gabinetto No, si sieda No, è la sua cella È sicuro? Deve andare o la uccido Vada, vada Ecco fatto Ecco fatto Che non si chiude la porta se c'è qualcuno dentro Accidenti Accidenti Può chiudere almeno la porta, no? No, rimarrà così in bella vista Così tutti quelli che vorranno commettere dei crimini Prenderanno lei come esempio e non li faranno Ok, grazie signore dell'FBI Chiudo almeno la porta del bagno Arrivederci Arrivederci, arrivederci Scusi signore dell'FBI Venga qui un attimo Il batter si è intesato Controlli Vede che No, no Lei è una persona pericolosa e non ci entro lì Non ci entro e mi pido Vede che è tutto verde e marrone Che schifo Lo sai che io so fare le magie? Ti vuole vedere una magia? Sì, mi faccia vedere Guardi Andiamo al rallentatore Perché sono un mago del tempo Riesco a capire Ma lei è tecnologia nuova che solo l'FBI ha? Sì, nel tempo libero ho imparato anche a manipolare il tempo Capisco Sì, però mi può sistemare il batter che avrei bisogno di Allora, lo faccio di così Così la vedo in faccia No E sappiamo fare anche questo Sono rimasta a dieci di vita Comunque dai Io direi che ci possiamo fermare così per questo video Come sempre le prendiamo a poco seriamente In realtà Il Guess Who al McDonald's l'abbiamo preso parecchio seriamente E ci sta Invece questa volta ci siamo fatti prendere un po' la mano Allora, contando che qua era anche piccola la mappa Quindi facile trovarsi e vedersi Era giusto fare qualche trollatina in più Mettiamola così Ok, sì Sono d'accordo Sono d'accordo Comunque, speriamo che il video vi sia piaciuto Fateci sapere nei commenti Con i likes Con il sondaggino Tutto quello che potete fare E ci fermiamo così Buonasera Se il video termina bene Se ti gusta un agradable gustos Is it clear to E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi per ropertervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.